Ci troviamo in via 25 Aprile a Caltanissetta. La scorsa settimana abbiamo realizzato qui un SOS. Ci ha chiamato il signor Castellana che abita in questo palazzo a fianco. La moglie era stata aggredita da un branco di cani randaggi. Aveva riportato la frattura al dito e diverse ferite di denti alla gampa. Tutto refertato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui i residenti lamentano la presenza del branco di cani randaggi. Alcuni anziani sono stati pure aggrediti. Hanno paura, soprattutto adesso con le belle giornate che arriveranno a scendere qui fuori a prendere aria la sera. Hanno paura per i nipotini che giocano qua davanti. Il comune ha provveduto. Questa mattina c'è la Calappiacani, così come viene giustamente definito. È stata montata questa gabbia. All'interno della gabbia c'è del cibo, della carne cruda messa in delle vaschette, come potete notare dalle immagini. Una corda attaccata al cancelletto che chiude la gabbia. L'altra parte della fune ce l'ha in mano l'operaio dentro il furgoncino. Appena i cani entrano a mangiare, l'operaio chiude la gabbia. I cani vengono presi e portati al canile municipale. Anche se però c'è stato fatto notare che è la terza volta che questi stessi cani vengono accalappiati e rimessi poi per strada. Quindi non si sa se ci sarà la quarta volta.